il mio medico personale subato il metro mamma mia campierati nella stazione metropolitana dovete fare una cosa dovete andare tutti addosso a zombie e non sparare dovete far si che spari solo lui appena va a terra tu non hai visto la mia visuale vero jimbo tu non hai visto la mia visuale jimbo è un rosso di più vai subito da zombie si vado da lui ha tirato scimmie dov'è a cazzo stai ferma ha finito le sceglie guarda che li creo casino qua li creo casino qua esatto vai a creare dei casini ragazzi dovete credermi dovete credermi il round è corto attiva la trappola fra la trappola fra la trappola ti credo dove cazzo è che si attiva? dove si attiva? ok bravo fra ok non trovavo il territorio non riesco bene ragazzi è finito il round comunque sul serio eh? si si proprio ma guarda è finito il brutto dov'è che sono loro? al... qua qua sono la esatto vagli addosso così proprio vai dentro cazzo andiamo a salutarli vai vai che giorno nel fosciato cazzo stai entrando? bloccalo bloccalo trollato bloccalo vai oh c'è a non bloccarti tu però eh no fra compagno compagno franzisco compagno franzisco io faccio parte degli zombie merda volante eh no lo tiri su tu cazzo? no io povero beh potresti tirarlo su cazzo eh ti adesso vado adesso vado sai che aiuto no vai blocca 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 tu bloccati bloccati sì grazie fra di recuperare da chance il darò terra anche qui noh ragazzi luogno dai dai buon pan pan pam 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 non ho colpi tranquillo fra a cosa servono i colpi vai 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 ti copro adesso dovevo arrivare a fare le provate ragazzi pensavo durasse meno scusatemi non sono abituato a queste performance adesso uso la trappola così finiamo sto cazzo di round con la trappola dai usate le trappole ragazzi no no ormai è andato è andato è andato ci credo io ci credo ci credo ragazzi I believe in this guarda qua guarda quanti ne sto uccidendo beccati 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 quanti dai dai ragazzi dai ragazzi ci siamo ci siamo ragazzi stai facendo un porno io ho finito dai dai mostrami il volto sto arrivando fra vengo vai a bloccarlo vado 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 missione in arrivo un attimo però fra che qua la situa non è favorevole non ho munizioni vai vai che si blocca vai chat vai che si blocca no niente a superarlo cucane no la trappola è finita attiva la trappola attiva la trappola è guerra aperta qua ah l'ha attivata oddio le ho uccisi no non tutti e questo fai dolphin dai vieni più in qua fra vieni più in qua che non mi fido della cazzo di trappola che c'è lì per favore vieni più in qua ragazzi zombie quando si mette in testa una cosa è invincibile ultime parole famose ragazzi non siamo la terra zombie quando si mette in testa qualcosa no 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 zombie quando si mette in testa no 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 si 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 Gibo hai visto? hai visto? ho visto hai visto che magia che ti ho tirato non lasciamo perdere raramente tiri cose così eh vado esci con il bel sabato sere e tiri anche di me vado attivare un'altra trappola ragazzi dai ragazzi su su convinti vi voglio convinti che si può fare? grazie fabi si può fare convincili il problema è proprio quello che si può fare il problema io non voglio più fare guarda la nonna dio caro nonna mezzanotte abbiamo iniziato alle otto abbiamo iniziato alle otto ma non è vero abbiamo iniziato alle nove sono tre ore che gioca eh capi porca troia c'ho gli occhi che mi escono fuori da l'orbit e gli occhiali che mi toccano l'alluce e gli occhiali? gli occhiali gli occhiali ah gli occhiali avevo capito male scusa gli occhiali ma sai Mirko è veneto lui punta subito a Mirko oh maria che 33 è un bel un bel risalto ma dov'è lui? ah ma è di là spero devo fare i miei attacchi dopo ma sta trappola è una merda povero povero questo è lo zombie best che vi aspettate basta io mi aspetto quello che va a letto si anche io voglio andare a letto comunque ragazzi ma una promessa una promessa ma che ora è sola adesso scusami ma che ora è sola adesso scusami eh guarda guarda sale trattenete il respiro vedrete che il round sarà finito prima che possiate morire ma io lo trattengo a te proprio te lo faccio trattenere fin quando non ti finisce Dio mio ah vieni a fare il video ma fa quando mai dai che sarà divertente ah ti divertirai tornerai ai vecchi tempi mortacci mia Dio quanti ne hai vai chat andiamo alla trappola chat alla trappola si andiamo alla trappola dai vai sei un pezzo di merda si il problema è che è finito il round è finito chat è finito stai remando contro non ci credo non ci credo devo bloccare l'altro qua fra fra stai grazie fra meno male ti va la trappola 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 aiuto 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 no sono morto avvia cazzo non ci sono ho c'è li zoppi ho c'è li zoppi ho c'è li zoppi ho c'è li zoppi bravissimo fra gimbo gimbo sei il più forte vado a trovarli adesso aspetta aspetta trappola 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 occhio vai vai non ci credo ci hai buttato fuori pur di frate li porto via io aspetta che c'era fra c'era cazzo che stava palesemente rimando contro di nuovo e io ti ho salvato assolutamente no è stato un caso e io ti ho salvato bisogna bloccare le porte ah non ci sono più god finalmente sono libero guarda quanti ne sto uccidendo oh dai che son finiti ragazzi ma non ancora spawno dai no ma non ce ne possono essere ancora tanti cioè adesso sono spawnando sono spawnando sono spawnando si ma seriamente dovrebbero essere finiti adesso no no ce ne abbiamo uccisi no 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 ne abbiamo uccisi tanti dai 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 ne abbiamo uccisi cazzo hanno ragione loro hanno ragione loro sono infiniti non ce la facciamo non ce la facciamo no ma siete così uomini di poca fede ragazzi sono le 3 del pomeriggio andrei avanti fino alle 3 di notte siete uomini di poca fede attendete ancora 5 minuti l'abbiamo finito come 5 minuti fa andiamo alla trappola fra è carica? controlla chi si è carica controlla dimmi se è carica no ok niente trappola allora ciao ciao cazzo stanno andando di la tranquillo sono già qua è carica è carica è carica sto arrivando con gli zombie attiva la prima che entri veloce Mo' meinen è ma perché ma perché quale è qual è l'obiettivo scusami di questa cosa dai che arriviamo su 33 nenhum si adesso mi aspetto che siano finiti eh No, stanno spawnando da dietro Avevate ragione, mi sa Erano più del previsto No, no, sono quattro, sono quattro dietro Quattro dietro, quattro dietro Esci, 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 è libera È libera l'exit La... Beh, potremmo cantare una canzoncina, ragazzi Never end in pain That's never end in pain Invece, dico che è l'ultimo round Dove volete morire, dovete morire In quello stanzino dove c'è il jug Che è uno stanzino piccolino Eh, ma no, il jug è random Ma il jug è random, Fabio Ah, allora Quella stanza Stiamo a sciopare Andiamo a sciopare, ragazzi Dove andiamo a sciopare? Andiamo a sciopare Andiamo a sciopare al co-judi, ragazzi Alla Doctor's Quarters Alla? Doctor's Quarters Doctor's Quarters Dove c'è la carrucola? Doctor's Quarters Doctor's Quarters Qua dentro la stanzina, ragazzi Dentro la stanzina qua Ci siete? Arrivo Amici? Ma perché Chazzo non è venuto? Perché non mi hai citato abbastanza Ok Boh, ci siamo Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Siamo tutti qua Vai No, devo arrivare io Ah, c'è anche Gianmarco Dov'è che c'è? Al Doctor Quarters The final standing Qui dove c'è la carrucola Doctor Quarters Arrivo, arrivo Scusa, non ho capito Ma lo puoi ripetere Il Doctor Quarters Ah, ok, grazie Doctor Quarters The final standing Dentro la stanzina Dentro la stanzina, ragazzi Inside the stanzina Bar The stanzina Il bar The beard room La stanza degli uccelli Voreremo tanto qua Jimbo, però, devi venire dentro la stanza Sono dentro la stanza Sono dentro la stanza Il divertimento Quando esco di casa mi annoio Ma sono contento Fra, spara, fra, spara Fra, tira su Fra, tira su Jimbo Tira su Jimbo, fra No, non vi dovete prononare Eeeh Sì, basta Io vorrei farti notare Quattro a terra Il migliore, signori e signori No, non hai scusato Il professionista Il professionista Vorrei farti notare Meno volte a terra di te Più headshot di te Io però Io però Jimbo Faccio notare che una volta Sono andato a terra Perché Chaz mi ha volutamente bloccato E anche io una volta Sono andato a terra per te Sì Maledetto Quindi È stata comunque una bella partita Ragazzi Vi ringrazio per la partecipazione Vi ringrazio per aver seguito il video Fino in fondo Lasciate tantissimi like Ringraziamo la pazienza di Chaz Ringraziamo Francisco E Jimbo Ringraziamo la fatica che farò domani Per lavorare Probabilmente mi licenzieranno Ma no Ma questo per voi No tranquillo Tranquillo la zombie Basta SRL Ti paga le spese mediche La convinzione va sempre Tranquillo Che intanto basta che canti Che ti passa Ne hai sicuro Grazie a tutti quanti Ciao anche al Fabi Che è qui Devo dire una cosa Allora ragazzi Sentiamo già Marco Per contogliere il video Vai Reclamezzo di vero cuore Questo evento prodotto Signori io vi auguro tante cari cose Ci vediamo fra 46 anni Se saremo ancora vivi Esatto E buon San Valentino a questo punto Perché saremo arrivati a San Valentino Questo video Bravi Chiamate responsabilmente Alla prossima Reclamezzo di vero cuore Questo evento prodotto Ciao 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 Ciao